E ora il video in cui il cantante Riccardo Azzurri unisce il suo brano Si vince sempre ogni giorno nella vita a una iniziativa dei medici dell'ospedale Fiorentino di Torregalli. Un'iniziativa di raccolta fondi, partecipano amici, artisti dello spettacolo toscano come Sergio Forconi e Famiglia, Massimo Antichi, Cristiano Amelitello e molti altri. Vediamolo. Salve, sono il dottor Gianni Taccetti del San Giovanni di Dio, Torregalli, ospedale in Firenze. Come avrete sicuramente appreso dai telegiornali, dai media, tutti, il nostro ospedale sta facendo fronte in maniera eccezionale alla pandemia da Covid-19. Sono stati trasformati 4 reparti, 74 posti letto, nei quali ricoverare i pazienti affetti da questa malattia e sono stati creati 18 posti in teratia intensiva, con un impegno estremamente elevato da parte di tutto il personale medico, infermieristico, sanitario in generale. Vi ringrazio a nome della Direzione Sanitaria, vi ringrazio a nome del Comune di La Strassigna per tutto quello che farete per noi. Grazie, grazie di cuore. È una guerra senza limiti Un esercito di medici Infermieri, donne e uomini Che perdono una vita Questo mondo ha una ferita Ma so che c'è una via d'uscita E questa forza prepotente in me Che fa dire non è finita Si vince sempre ogni giorno nella vita Ci devi credere tu Affronta sempre un uso duro Ogni partita è la tua strada Troverai Questo non è un gioco Fai la tua parte Io resto in corsia Tu resta a casa Angeli vestiti di bianco In trincea per noi Si nasce con i pugni chiusi Sfidando la vita Si muore con le mani aperte Accettando questa vita Fai la tua fiducia